Sono 222 i nuovi maestri del gusto di Torino e provincia scelti come migliori rappresentanti della tradizione agroalimentale locale con una selezione fra le più attese nell'ambito dell'enogastronomia del Piemonte. Resteranno in carica per il biennio 2023-2024. A premiarli la Camera di Commercio di Torino e Slow Food Italia che hanno selezionato i vincitori fra aziende, imprenditori, prodotti classici e innovativi. E a proposito di maestri del gusto innovativi vi raccontiamo la storia di Fabrizio Raca fra i primati di questa mattina. Vediamo con Dario Morricone. Essere maestro del gusto è un grande premio che abbiamo ricevuto. Significa essere un artigiano, significa prima di tutto essere una persona che si sveglia ogni mattina felice di fare il proprio mestiere perché è ambasciatore del cibo e degli altri valori del cibo, della cultura che abbiamo nel nostro paese. Quindi è una grandissima cosa. Fabrizio Raca, 40 anni, pasticcere, è uno dei 222 maestri del gusto premiati a Torino dalla Camera di Commercio, dal Slow Food e dal Laboratorio Chimico Camerale. Per Fabrizio Raca la soddisfazione come pasticcere arriva dopo aver percorso una strada un po' diversa dal solito. Studio design e poi capisco che effettivamente il mondo del dolce è quello che richiama maggiormente la mia attenzione. Inizio un percorso in una piccola gelateria aperta insieme al mio fratello. Io produco dessert, capisco sin da subito che il mondo del dessert è quello che mi piace maggiormente. Quindi disegno, progetto e produco dessert per i miei clienti. L'unione di due mondi, quello del design al politecnico e quello della pasticceria, che sembrano distanti ma che hanno in comune impegno e studio per arrivare a costruire una piccola impresa che dà lavoro a oltre 20 persone anche in un periodo di crisi come questo. Non è assolutamente semplice perché i costi che effettivamente sono ricaduti sulla nostra attività sono veramente molto molto ingenti e devo dire la verità che talvolta ci demoralizzano un pochettino però noi comunque siamo ottimisti su tutti, anzi ci sprona ancora di più a dare al meglio e a dimostrare ai nostri clienti che anziché demoralizzarci per l'appunto daremo il massimo per uscire vittoriosi e anche felici da questa crisi. Questa è una cosa molto importante.